Venerdì 7 settembre, ultima giornata di lavoro per la squadra di Misses Tramaccioni in questa settimana. Seguiranno due giorni di riposo, squadra che tornerà a lavorare da lunedì per preparare la sfida con il Torino. Giornata di lavoro, soprattutto periodo che serve a mettere un po' di fieno in cascina, anche in questo senso hanno lavorato quest'oggi. I ragazzi con alcuni giocatori che stanno lentamente tornando a far parte del gruppo, lo stanno facendo già da qualche giorno, come vedete dalle immagini, e stanno crescendo insieme ai compagni. Li ritroveremo nel corso delle sette partite in 21 giorni che inizieranno proprio da domenica prossima dall'Olimpico di Torino. Quello che è avvenuto oggi invece è stato un lavoro iniziato con una messa in azione a secco, quindi una fase di riscaldamento senza l'utilizzo del pallone. Poi il gruppo ha svolto esercizi di resistenza specifica, sempre a secco, e una partitella finale tecnico-tattica. In questo caso evidentemente grandissimo protagonista il pallone, ma anche quello che sarà il lavoro da portare avanti dal punto di vista tattico per le due sfide, non solo quella di Torino, ma immaginiamo anche quella che seguirà il giovedì con il Rubin Cazzano. Come già detto, quella di domani sarà una giornata con il centro sportivo Angelo Moratti vuoto, in attesa del rientro della squadra. Non domenica, ma bensì lunedì due giorni di riposo. C'è da riposare un po', evidentemente servirà quando da lunedì inizierà il rush che ci porterà alle prossime sette gare. Questo per quanto concerne gli allenamenti, per ciò che riguarda invece il mondo inter, appuntamento come sempre con il nostro notiziario canale 232 di Sky, Inter Channel, ore 19.30.